Ciao e benvenuti in questa seconda parte delle curiosità sull'isola di Zanzibar curiosità molto, molto strane per chi non l'abbia ancora visto vi ricordo che esiste anche una prima parte non perdetevela, anche lì ci sono dieci curiosità sull'isola partiamo con la prima curiosità a Zanzibar nella foresta di Giozzani ci sono le scimmie nere e le scimmie rosse le scimmie rosse sono considerate patrimonio nazionale dell'isola perché in tutto il mondo esistono ed abitano soltanto a Zanzibar come anticipavo anche nell'altro video ovvero nella prima parte io vi sto raccontando le curiosità in base alla mia esperienza personale e in base ai racconti della gente locale secondo, seconda curiosità Zanzibar è l'isola delle spezie qui coltivano tutte le possibili spezie immaginabili tutte ogni spezia ha anche specifiche applicazioni curative numero tre i chiodi di carofano sono considerati patrimonio nazionale quindi l'esportazione è sotto il stretto controllo dello Stato ok arriva la curiosità numero 4 che è una delle più strane in assoluto secondo me vi raccomando rimanete svegli la curiosità numero 4 la nocce moscata viene usata un po' come l'alcol nei paesi occidentali fa più o meno lo stesso effetto e però se si accede può provocare addirittura le allucinazioni fatemi sapere nei commenti se qualcuno di voi sapeva già questa cosa devo dire che quando l'ho sentita dai locali sono rimasta un po' sconvolta ecco non l'avevo detto siccome la maggior parte della popolazione musulmana non usano l'alcol quindi uno potrebbe chiedersi ma perché non usano direttamente l'alcol non usano l'alcol perché la religione non lo permette e quindi come un sostituto all'alcol fanno l'uso della nocce moscata ok passiamo alla curiosità numero 5 a Zanzibar c'è il mango più buono del mondo in assoluto il più buono del mondo curiosità numero 6 le ragoste non sono considerate una pietanza di lusso come lo sono qua anzi durante le escursioni giornaliere vengono servite in grandi quantità come pranzo in spiaggia ok arriva la settima curiosità e anche questa secondo me è molto strana l'uomo può avere fino a 4 mogli essendo di religione maggiormente musulmana gli uomini possono sposare fino a 4 donne garantendo però a tutte un pari trattamento chi lo sapeva questo? curiosità numero 8 l'elettricità ecco questa curiosità l'ho percepita io ed è tanto strana perché è è un fatto completamente opposto alla nostra società in cui viviamo noi e si vede si nota tantissimo questa cosa quindi l'elettricità non è ancora presente in tutte le case e quando una famiglia riesce a introdurre l'elettricità in casa secondo voi perché non tutti riescono secondo voi qual è l'apparecchio o l'elettrico l'apparecchio elettrico elettronico o utensile utensile che acquista per primo vi lascio pensare un po' io erroneamente avrei risposto la tv e invece no il primo apparecchio che la popolazione acquista è il frullatore questo perché permette alle persone di utilizzare la frutta e la verdura in vari e vari modi passiamo alla curiosità nove a zanzibar puoi ammirare la via lattea l'isola essendo poco illuminata di notte si può ammirare chiaramente la via lattea ed è bellissima e poi l'ultima curiosità la curiosità numero dieci a zanzibar puoi trovare le caravelle portoghesi no non sono animali simpatici perché sono cugine delle meduse e solo che sono molto più velenose talmente velenose che possono addirittura causare l'arresto cardiaco oppure di attacchi cardia io ne ho avuto un incontro ravvicinato e non è stato per niente piacevole queste erano le dieci curiosità sull'isola di zanzibar seconda parte per chi non fosse già iscritto al canale e vorrebbe dare un supporto si può iscrivere cliccando sulla campanellina sottostante grazie per il vostro supporto e buonanotte a a a a a a a a a Grazie.